buongiorno a tutti e grazie per essere qui ho voluto riunirvi al termine del consiglio di amministrazione di oggi per fare un importante annuncio. Mi rivolgo non solo a voi che siete qui presenti ma grazie alle riprese video che abbiamo predisposto a tutta la grande famiglia San Marco Group nel mondo. 25 anni fa sono subentrato come presidente di questa azienda a mia madre Alessandrina che ne aveva a sua volta assunto la guida dopo mio nonno. La mia priorità sin dal mio ingresso è stata quella di dare al colorificio San Marco ora diventato San Marco Group un respiro internazionale. Adesso ripercorrendo tutta la nostra storia vedo con grande chiarezza che ciascun passaggio ha portato con sé una rinnovata energia e il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi perché questo è ciò che ogni cambiamento comporta. Oggi quindi sono qui con la mia famiglia per passare il testimone a Pietro. Penso infatti che sia arrivato il momento giusto perché lui in rappresentanza della quarta generazione assuma il ruolo di presidente e amministratore delegato di San Marco Group conducendoci incontro a nuovi traguardi. Viviamo questa decisione che abbiamo voluto e preso tutti insieme con grande consapevolezza. Confido nell'impegno e nella determinazione di Pietro. So che partendo dalle nostre radici e dai nostri valori è pronto a guidare con passione la nostra squadra verso sfide future. Per celebrare questo importante passaggio consegno a Pietro una lata di World Cream di certo il più iconico fra i nostri prodotti che che ben rappresenta la nostra unicità e la nostra storia. Buongiorno a tutti. Vivo con grande emozione e gioia questo momento e ringrazio per la fiducia a mio padre e tutta la mia famiglia e il consiglio di amministrazione. Sono consapevole della responsabilità che mi aspetta ed è per questo che da ormai diversi anni mi sto preparando ad assumerla. Abbiamo già iniziato una scrupolosa selezione per individuare la persona che prenderà il ruolo di direttore commerciale di gruppo, ruolo che attualmente ricoprerò ad Interim. Posso dirvi che affronterò questa nuova sfida con questo incarico con attenzione e anche con coscienza, con quella passione, quella spinta verso l'innovazione che mi hanno guidato fino ad ora nel mio percorso in azienda. Il compito che più di ogni altro mi sento chiamato ad assolvere è quello di portare nel futuro un'azienda, una realtà già solida che ho contribuito a indirizzare verso ottimi risultati economici e finanziari. Ora partendo da queste solite basi e ispirandomi alle eccellenze di performance raggiunte, la mia volontà è quella di consolidarle, creando ulteriore valore per continuare a essere al passo con un scenario in rapida evoluzione. Proprio per questo voglio rassicurarvi sul fatto che mantenendo la grande solidità patrimoniale ed economica che contrastingue la nostra azienda, proseguiremo a investire sui nostri punti di forza, l'innovazione ma anche la qualità, le competenze, la ricerca e sviluppo e l'attenzione al cliente. Non solo, in un'ottica di sostenuta crescita intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra struttura internazionale e quindi la presenza capillare nel mercato mondiale, prestando una particolare attenzione verso la sostenibilità sociale e ambientale. In questo modo andremo a rafforzare una cultura che già appartiene a San Marco Group e che ci distingue nel contesto competitivo. Ci concentreremo infine sulla trasformazione digitale, continuando a cogliere e cavalcare le eccezionali opportunità offerte dai nuovi strumenti per valorizzare i risultati del nostro lavoro e quello dei nostri partner. Oltre che assicurare ai clienti customer experience sempre più coinvolgenti e immersive, come questa. Il futuro è oggi. Questo per San Marco Group non è un semplice slogan, un semplice claim, ma è una filosofia di impresa. Credo che metterla in atto ogni giorno sia possibile e quasi naturale per noi, proprio perché possiamo contare su salde e radici. Le mie sorelle, Marta e Maria Luce ed io, rappresentiamo la quarta generazione di questa famiglia, i cui valori ci regalano forza e sicurezza. Abbiamo ben presente quanto sia importante continuare agire in un solco di continuità, ma nello stesso tempo non abbiamo paura di coltivare con energia nuove motivazioni che ci permettono di emergere e anticipare i tempi, esattamente come hanno fatto nostro bisnonno Pietro, nostra nonna Alessandrina e nostro padre. La consapovolezza di poter fare affidamento sui clienti, sui dipendenti, gli agenti e i fornitori, tutti partner di altissimo profilo, è per me uno sprone ulteriore per fare sempre meglio. Puntiamo a rafforzare ulteriormente questi legami e mantenere preziosi i rapporti di fiducia, facendo leva su questi asset. L'investimento continuo e costante ricerca e sviluppo, l'innovazione e la formazione, la competenza, la qualità dei nostri prodotti e l'attenzione verso questi interlocutori. Sappiamo di essere un'azienda forte e competitiva perché abbiamo il privilegio di contare sulla grande famiglia Samac Group, da chi lavora in azienda da diversi anni a chi si è unito recentemente. Tutti siamo impegnati a trovare soluzioni di valore per i nostri clienti. Oggi assumo il nuovo ruolo di presidente e amministratore delegato dell'azienda con la serena certezza di poter affrontare a testa alta insieme nuove sfide e guardare a nuovi orizzonti in Italia e nei mercati internazionali. Non vedo l'ora di mettermi a lavoro insieme a tutti voi in un clima di collaborazione e confronto quotidiano contando sul vostro prezioso contributo. Grazie 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 Grazie